Buonasera e benvenuti alla puntata numero 6 di Decore Podcast. Facciamo sentire anche a chi ci seguirà su Spotify, su YouTube, che siamo veramente dal vivo, siamo a Lian, sotto Ponte Cavour, siamo sul Tevere, c'è un bellissimo pubblico qui che è venuto ad assistere a questa puntata, quindi se volete fate un applauso. E solitamente questo podcast inizia con la presentazione di noi speaker e alla mia sinistra un pezzo da 90, un grande applauso per Danilo da Fiumicino, ragazzi. Grazie a tutti, buonasera. Allora, solitamente non ti presento mai, alla mia destra, dall'altra parte, Alessandro Pieravanti, ragazzi, facciamogli un applauso. Ma soprattutto noi vogliamo dire grazie e quindi a Francesco Montanari, benvenuto. Grazie, buonasera. Io volevo dire Francesco Montanari dal quartiere Alessandrino. Grande! C'è qualcuno dopo Danilo da Fiumicino? Francesco dall'Alessandrino. Ce l'aspettavamo un po' tutti questa cosa. Esatto. Io te l'avrei chiesta. Sì, così salutiamo il nostro amico. Salutiamo Elvio Il Fornaro. Ciao Elvio. Che è un fornaio dell'Alessandrino che mi ha scritto oggi e mi ha detto però diglielo a Francesco che non si scordi le origini, capito? E soprattutto perché sponsorizza il vostro podcast. Un applauso! L'altro forno all'Alessandrino ragazzi, andateci perché... C'è qualcuno dell'Alessandrino in sala per caso? Io. Zone limite... Ah, lì c'è uno dell'Alessandrino. Casilina. Amico mio, la Casilina parte da Porta Maggiore, arriva... Amala, tu sei uno dei miei attori preferiti, quindi... Questo l'hai detto a tutti però... Grazie, lo dici a tutti e ti ringrazio. Non l'ho detto a tutti, lo dico a tutti quelli che invitiamo qua. Esatto. No, vabbè però... Però invidi qua i tuoi preferiti. Non invito persone che mi stanno sul cazzo, questa già è... Comunque è l'inizio. È già qualcosa. Noi iniziamo solitamente con la lettura della definizione di Wikipedia e di Wikipedia leggiamo proprio l'incipit. Francesco Montanari, Roma, 4 ottobre 1984, è un attore italiano. Tutto giusto? No, no, tutto giusto. Voi con sto governo hai fatto bene a sottolineare, per carità di Dio. Italiano. Italiano, sì, credo, credo. Ecco, vedi, hanno urlato libanese. No, però quello è un ruolo. No, sì, italiano, sì. Sono nato all'Alessandrino nel 41084. Tra l'altro il giorno di San Francesco d'Assisi. E voi direte, che banalità per quello di chiami Francesco. Però c'è una storia se volete, io la racconto. Come no? Io te lo voglio chiedere. Chiedimi, ma vuoi raccontare una storia? Ma vuoi raccontare quella storia che associa il tuo nome al santo? Esatto, no, posso raccontarla? Eh certo, come no? No, perché, prende, io dovevo essere Martina. Martina. Giuro, giuro. Ora, non è che... Sì, Martina. No, perché non è che sia particolarmente... Sono normodotato, diciamo. Però, che succede? Che siccome sono stato tanto tempo... Almeno questa è la leggenda che narra mia madre. Insomma, siccome sono stato tanto tempo di gluteo, evidentemente la mia iperlordosi comunque ha fatto pensare che fossi un gluteo da Martina. Allora mi volevano chiamare Martina. Poi che cosa succede? Io ho un fratello più grande che si chiama Alessandro, che saluto. Un applauso Alessandro, pure lui dell'Alessandrino. Pensate un po'. Alessandro Alessandrino. Lui come doveva essere chiamato? No, lui Alessandro. Però mio nonno, materno, tale Michelangelo, di Trapani, e quindi, come dire, emigrato a Roma, proprio lo stereotipo siciliano di quegli anni, Alto, Poco, Lupara e, come dire, Sigaro, si era molto offeso con mia mamma che non avesse chiamato il primo genito Michelangelo. Allora ha detto, semmai avrai un fecchio, un secondo fecchio, lo devi chiamare come mea. E quindi mamma ha detto sì. Poi nasce Martina e dice, ma no, si chiama Martina. Poi nasco e non ero Martina, perché sono nato con la sorpresina. E praticamente che è successo? Che il dottore si chiamava Francesco, era il giorno di San Francesco d'Assisi, e dice, ma come lo chiamiamo sto figlio? Francesco. Mio nonno non ha parlato a mia mamma per sei mesi. Ma quindi l'ha deciso il dottore? Cioè, sta cosa? L'ha deciso il dottore. E presente, mia nonna non parlò a mia madre per sei mesi, e alla fine io mi chiamo Francesco Michelangelo Montanari. Bellissimo. Un'agonia. Poi ho deciso di non dirlo mai, perché tu dici Francesco Michelangelo Montanari, però arrivo io. Quindi tu sul documento... No, no, poi l'ho fatto in modo di togliere. Ah, sul documento non sei Francesco Michelangelo. No, scrivo Martina. E ora si spiegano tutti gli autografi, tutte le foto del libanese con sotto scritto Martina. Beh, uno pensa a Montanari, invece è a Martina. Eh, ma capito. Allora, da che zona vieni ce l'hai già detto? Quindi sei di Roma. Qual è il primo ricordo che hai da bambino, da piccolo, quindi all'Alessandrino? Che ti ricordi? Un'immagine, un flash? L'altro forno! No, sto scherzando, sto scherzando. No, il primo ricordo dell'Alessandrino. Il primo ricordo dell'Alessandrino. Eh, no, in realtà... Eh, lo sai che non lo... Tu che giochi al parchetto, il muletto, la partita di pallone, oppure tu al parco con tua nonna... Sì, guarda, in realtà non ho un ricordo vivido dell'Alessandrino, ho quanto di Torre Maura, che è un quartiere lì vicino, perché mia nonna, ma paterna stavolta, viveva a Torre Maura, e io da bambino passavo, io e mio fratello passavamo tutte, insomma, il pomeriggi a casa mia nonna, perché i miei anni lavoravano, e mi ricordo che a un certo punto io, come dire, in maniera involontaria, inconsapevole, ho salvato la palazzina da un incendio, perché praticamente mio fratello era molto attratto dal fuoco, e no, piromare, nel senso, però da piccolo, sai, uno poi faceva gli scout, gli esplorati, insomma, gli scout, quindi era molto... e una volta lui cercava di accendere un fuocherello dietro la poltrona di mia nonna, dove sopra la poltrona c'era la mia bisnonna, che all'epoca aveva 100 anni, giuro, tutto vero, poi Rutelli all'epoca a 103 gli fece fare i fuochi d'artificio, cioè, pensa a quelle cose, era la mia bisnonna. Nonna... non sai, non mi ricordo la... Cioè, fino a quanti anni è arrivata la... 104. Ah, quindi... E praticamente, vabbè, mio fratello voleva accendere questo fuocherello con la mia bisnonna sopra e mi chiede di andare a prendere della carta. E io vado in cucina... Cioè, e la tua bisnonna era... No, era la Sally, che rantolava poverina sul divano, e a un certo punto io vado in cucina e c'era mia nonna e i miei genitori di qua e di là, e io dico, mi date un po' di carta? E loro dicono, perché? Perché Alessandro Ale vuole accendere il fuoco. Mio fratello aveva circa sei anni. E quindi i miei genitori hanno detto, dove lo vuole accendere il fuoco tuo fratello. E io dico, eh, dietro a una bisnonna. E quindi niente, poi è successo questo. Quindi te la sei cantata. Poi dici, perché vado dallo psicologo, eh, capisci? Eh, sì. Dici, un motivo c'è. Senti, la città di Roma, no? Sì. Una domanda un po' difficile. Come l'hai vista cambiare dall'epoca ad oggi, se c'è proprio una cosa, secondo te, emblematica del cambiamento della città? Che dici, sai, forse... Ma guarda, la verità è che io posso dire che ho visto cambiare molto, a parte gli scherzi, il quartiere di provenienza, no? Perché all'epoca, quando ero bambino io, l'Alessandrino era una zona, no, non dico off limits per carità, però era una borgata effettiva, no? Quindi per noi andare al centro era un po' una gita fuori porta, era un po' andare a via del corso, mi ricordo i sabati, io finivo la scuola e la nostra uscita era andare al McDonald's di Piazza di Spagna e mangiare il menù medio. Uguale, uguale, anche per me, siamo tutti così. Tutti, tutti così. E poi tornare, tornare. Mi ricordo era... Tu pensa che io partivo da Fiumici, partivo a colazione, arrivavo a pranzo al McDonald's di Piazza di Spagna, quindi per me era veramente difficile. Era un weekend, per me era un sabato pomeriggio. E andavamo lì a fare lo struscio a via del corso, però poi è successo che a un certo punto i miei genitori, per motivi di lavoro, insomma, hanno deciso che io e mio fratello andassimo un po' a fare delle scuole anche al di là dell'Alessandrino, quindi dall'altra parte, cose così. Quindi alla fine ho conosciuto insomma tante strade di Roma. E tornare dopo tanti anni nel quartiere e vedere che quei quartieri effettivamente fanno parte di una sorta di, come dire, di... non voglio usare parole brutte perché il risanamento è brutto, però una sorta di epicentro nuovo, di una nuova concezione metropolitana in cui non è detto che la comunità debba necessariamente andare al centro per vivere ma possa e debba avere giustamente anche tante possibilità nel proprio quartiere di provenienza. Quindi, come dire, un investimento effettivo come fu, se vuoi, del Pigneto, poi adesso Centocelle, Alessandrino, insomma, è tutta una parte che sta vivendo un momento molto importante, no? Sarà perché forse finalmente pare che arriverà sta metropolitana, che io quando ero piccolo dicono che faranno la metro, un miraggio, sta metropolitana, io conoscevo solo la A e già quando vedevo la lettera B che era blu, all'epoca tremavo. E quindi no, insomma, quello l'ho visto cambiare molto. Poi io mi sono, insomma, sono uscito di casa molto presto, molto presto, a vent'anni. Quindi tu la riqualificazione della periferia la vedi? Sì, quantomeno lì, sì. Poi ci saranno, non vivo più lì, c'è la mia famiglia, quindi vado lì e però la mia famiglia di provenienza, non la mia famiglia attuale, però sì, vedo proprio cambiamenti tangibili. E tu sei un po' un orgoglio del quartiere o c'è qualcun altro dell'Alessandrino che è ha fregato il posto. C'hai tipo, adesso a Ronciglione c'è il poster di Marco Mengoni, all'Alessandrino c'è il poster di Francesco Montanelli. No, allora, non c'è il poster di Francesco Montanelli, però devo dire la verità che quando praticamente, quando Romanzo Criminale, diciamo, ebbe il successo... Ah, perché hai fatto Romanzo Criminale? Sì, sì, però io facevo l'albanese, non l'ipanese, ci tengo a dirlo. Praticamente succede, no, che esplode questo fenomeno culturale che era quella serie. A un certo punto io vado a casa un giorno dei miei genitori e di fronte casa nostra, la palazzina di fronte, aveva una sorta di manifesto, un lenzuolo enorme, con la mia faccia. C'ho scritto, il libanese è nato qui. Aspettate. Io entro dentro casa, mia madre, in lacrime, giuro in lacrime, diceva, io non ho partorito un criminale! Io dicevo, no mamma, ma non è... Vai! Devono levare quel coso! Dico, mamma, ma non è il criminale... Quindi alla fine io ho pregato di levare il manifesto, anche con profondo imbarazzo, però... In realtà tua mamma voleva il poster con scritto Martina e Natale. Martina e Natale! Se sapessero che eri Martina! No, no, questo non l'ha detto. E sì, no, è accaduto questo, poi l'hanno tolto, sì, vabbè, ma fortunatamente era insomma un po' imbarazzante questa cosa, diciamo, però... E poi all'interno della famiglia a un certo punto tua madre però è stata contenta, cioè ha superato quel momento di... No, no, ma lei era contenta, diciamo, dell'attore, non voleva... Non riusciva a capire magari che si facesse in maniera guliardica, insomma. Già che siamo in tema romanzo criminale e libanese, non per parlare di cose banali, ma tutto quello che è successo dopo in relazione pure al fatto che hanno iniziato a mettervi su magliette vendute ai mercatini, sugli accendini, su... Di cui noi non abbiamo preso un soldo, eh? Io ci tengo a dirlo perché tutti pensano... Una volta uno mi ha detto, ti sei comprato Roma, ti sei... Dico, no, no, veramente, non mi sono comprato niente. E poi è sempre associato a cose brutte, alla mafia romana, cioè quell'aspetto lì, cioè quella degenerazione del... Voi come ve la siete vissuta o tu come te la sei vissuta? Cioè non la fama che possiamo immaginare... Ma guarda, non lo so, cioè francamente è chiaro che ci furono tante polemiche, ci sono tuttora tante polemiche quando un progetto che tratta, come dire, certi argomenti e tende a innalzare, elevare delle figure socialmente negative, crea, no, delle diatribe sempre... Ma, voglio dire, cioè il romanzo criminale non è stato il primo, non sarà l'ultimo, insomma, già il padrino, c'è ma tanti altri... Però forse in quel periodo... Io lo so, io lo so subito. Questo qui è il tasto delle domande scomode, ma più che domande scomode, domande sceme, perché è un modo per, capito... Per evitare. Per giustificare. No, ma non evitare. Per giustificare. Ma facciamola subito la domanda. Cioè, dici la verità, onesto, ma quanto te stanno sul cazzo quelli che ancora oggi te fermano e se fanno la foto che ho scritto io stavo con l'ibanese, io sto con l'ibanese. Dici la verità, quando, quanto? Ma io non vorrei dire che è appena successo due minuti fa. No, vabbè, ma figura. No, ma la verità, dico la verità... Oddio, non lo so, lo sai? No, allora... Io adesso ti direi, io sto col cacciatore. Oh, grazie. Per cambiare, capito? Per cambiare, per cambiare, dici. Però... No, sempre guardi in là, però dall'altra... No, ma non è... Guarda, oggi devo dirti la verità, non la trovo, non la trovo. Cioè, dipendevo, non è una cosa che più mi pesa, molto. Ci sono stati periodi della mia vita in cui obiettivamente mi ero un po' rotto il cazzo, francamente, se devo dire la verità. Però oggi ormai non più... No, veramente, dico la verità, non più. Perché poi alla fine, sai, è una cosa bella, vuol dire che sei arrivato. Pure se le persone... Magari tu fai tanto, però le persone sono affezionate a quella cosa. Va bene. A me mi dispiace perché io ti ho conosciuto un po' di anni fa, è la prima cosa che ti ho detto. Ah, quindi era una domanda per te, dico. Ti ho chiesto scusa. Ma no, ma più... Ah, mi sa che era il periodo in cui mi stavano sul cazzo. Dopo anni, quindi... Ma ti ha mai avvicinato qualche boss dalla malavita dicendo... Guarda, dichiaratamente no, però ti posso dire, una volta successe, ma a parte gli scherzi, una volta successe una cosa strana. Io stavo provando uno spettacolo dietro Piazza Gavur e provavamo la sera, perché tutti... Insomma, provavamo la sera. Io esco per primo verso l'una di notte dalle prove e mi fumo una sigaretta, sto lì, aspetto. E a un certo punto arriva un signore sui 60 anni, bello grosso, insomma, che portava a spasso il cane. Aveva un, credo fosse un bulldog francese marrone, no? Mi ricordo proprio tutto. Col sigaro che mi dice, ma hai da accendere? Dico, prego, certo. Do l'accendino. Poi lui mi guarda e mi fa... Ma adesso è quello che ha fatto... E io dico, sì, sì, intende l'omanzo criminale? Dice, sì. Ah. Eravamo da soli, eh? C'erano i miei colleghi ancora stavano sotto. E lui mi guarda, comincia a guardarmi un po' strano. Sai quando percepisci un po' che cambia l'aria? No? Hai presente? Ha messo la mano sotto il giacone. No, ancora no. No, no, no. No, però mi guarda e mi fa... E partita la musica dei moriboli. Mi dice, no, ma così, proprio a me, ma fammi capire, ma te fai i sordi sulla sofferenza della gente? Io, siccome lo vedo, vedo i capelli bianchi, vedo la faccia che comunque mi sembrava che portasse un po' le rughe della vita, diciamo, faccio due calcoli, dico, sì, potrebbe essere, come dire, qualcuno che in quelle storie è centrato in qualche maniera. Allora dico, guardi, no, io non faccio i soldi, io faccio l'attore, è un ruolo... No, no, ma fammi capire, cioè, te speculi sulle madri che piangono i figli. Quando dice speculi, che era una parola abbastanza inaspettata da quel momento, da quella persona che... sulle madri che piangono i figli, io mi dico, guardi, io faccio l'attore, cioè, ho fatto questo ruolo, come potrei averne fatto un altro, escono i miei colleghi, lui si irrigidisce, perché non eravamo più soli, e mi sussurra all'orecchio, comunque qualcuno te la farà pagare, e va via. Io rimango un po' fermo, un mio collega che aveva fatto la serie mi fa, oh, tutto al posto. Dico, sì, no, racconto in breve quello che è successo, il mio collega ha detto, va, dove sta? Dico, andiamo a chiedere, dico, ma che devi chiedere, ma stai buono? Diciamo, è successo questo, il massimo, fino a oggi, come situazione... Poi io non so chi fosse... E dopo tanti anni, il criminale è qui! Eccolo qui! No, io non so chi... no, in realtà era mio padre, no, sto scherzando. No, poi è successo... No, il tuo collega ha detto, mandami a chiamare Bufalo, no? Esatto. Era entrato... No, però, come dire, di cose... Cioè, fu strano, non lo nego, non so chi fosse, non so, poi sai, c'è tanta gente anche che magari inventa cose, si inventa cose, si racconta storie, io non lo so, non so dire niente. Però, devo dire, fino a oggi, almeno da quel punto di vista, pare che non sia... Sì, mi hanno rubato le ruote della Smart una volta a me e alla mia compagna. Federica, un applauso, che saluto! Abbiamo trovato la Smart sui mattoni, come negli anni 70. Bellissimo. È stato divertente. Però, dico, a parte questo, non lo so. Io mi chiedo sempre, quelli che mettono le macchine sui mattoni, comunque, i mattoni l'hanno comprati? Cioè, o hanno rubato, o hanno rubato i mattoni da un cantino. Eh, quella è una bella dieta. Perché sarebbe un investimento. No, tra l'altro noi solo due, solo il lato sinistro, perché il lato destro avevamo parcheggiato la macchina talmente vicino all'altra che non sono riusciti a... Quindi ora, cioè, quel periodo girava una bicicletta con le ruote della Smart. Esatto, esatto. Due ruote che c'erano. Senti, domanda secca. Fossi domani il sindaco di Roma, qual è la prima cosa che faresti? Mi dimettirei. Innanzitutto, già che se te faresti vedere potresti fare qualcosa in più... Eh no, sì, tra l'altro. No, non lo so. Satina politica, ragazzi. Satina politica, siamo, eh? Cattivi. No, io penso seriamente che Roma porta gli strati secolari di tanti, troppi compromessi. E' un po' come quando vai fuori imperiali e vedi dove era, no? All'epoca il terreno e dove è oggi. E ogni strato effettivo che tu riscontri tangibilmente nella terra che vedi è figlio di tantissime dinamiche e interazioni politiche. Posso dirvi che Alfonso Sabella, che tu hai citato poc'anzi con Il Cacciatore, che è il magistrato vero che io ho interpretato nella serie Il Cacciatore, dove mi chiamavo Saverio Barone, ma la storia è ispirata a Alfonso Sabella, che è un uomo che ha arrestato circa 1752 latitanti, tra cui dei grandissimi capi mafia, i fratelli Brusca, Bacarella, Pietro Aglieri, sua sorella anni dopo Provenzano. Vabbè, insomma, Alfonso Sabella venne chiamato nell'aggiunta di Marino, quando Marino pure era sindaco di Roma, e Alfonso, forse pochi sanno, fu quello che diede il via all'indagine di mafia capitale. Poi Marino cade e per legislatura l'aggiunta non può più esercitare per tot anni nella città dove ha fatto parte l'aggiunta, quindi un magistrato non può più fare indagini di magistratura. E Alfonso mi disse questo, ho avuto più difficoltà a entrare nelle pieghe dell'ama che a restare Bacarella. Io penso che questo sia abbastanza identificativo di una problematica però molto difficile di una città veramente costruita, ahimè, su una relazione ambigua. Ecco, quindi seriamente non so, non so cosa farei, infatti non mi candido, nel senso non so veramente cosa farei. Abbiamo chiesto a Francesco di darci una playlist dei suoi brani Decore, perché che vuol dire Decore Podcast? Decore Podcast è un contenitore in cui l'ospite che ci viene a trovare ci racconta tutte le cose che lo fanno stare bene. Lo abbiamo fatto parlare un po' di quando era bambino, però gli abbiamo chiesto anche qual è la musica che ti fa stare bene, quella che ti metti e ti rimetti, quella che magari quando vai a correre hai nelle cuffiette o quando vuoi sentirti un po' coccolato. E lui ci ha dato dei brani, questo è il primo brano che ha scelto, ce ne sentiamo un pezzetto insieme e poi ne parliamo direttamente con Francesco. Beh, è meravigliosa, è meravigliosa questa, è meravigliosa. Un applauso a Caparezza, è un genio assoluto. E chi non è d'accordo non capisce un cazzo, lo dico. Ma penso che in pochi non esistono, non esiste chi disprezza Caparezza, cioè è impossibile. Non lo so, sai, gli haters stanno un po' dappertutto, cioè pure chi disprezza da nero da più vicino. No, quelli tanto, ma io... Quelli li capiamo benissimo. Quelli de' Latina, dici? No, quelli de' Ciampino mi odiano perché mi vedono come un concorrente, capito? Questo è un brano che parla della gente che va a lavorare tutti i giorni e che è eroe nel fare le cose normali e nel combattere contro una società che sicuramente li mette in difficoltà. Mi è venuto in mente di farti questa domanda. Secondo me questa scelta tua è una scelta che dice molto di come ti approcci alle cose. Ci sono due modi, secondo me, di vivere la fama e il successo. E lo si vede soprattutto sui social, cioè quello di ostentare la ricchezza e anche di sbattere in faccia la povertà a chi in realtà magari invece fa dei lavori umili o chi sta in difficoltà. mazzette di soldi, cose, cioè una pornografia legata ai soldi che diciamo è diventata anche una moda, cioè si tende ad ammirare dei modelli di successo di gente che ostenta ricchezza in maniera, diciamo, così, gratuita. E invece c'è chi vive la fama e il successo con rispetto ricordandosi magari delle origini, ricordandosi di chi invece poi il paese lo fa andare avanti veramente con tutti i lavori più umili del mondo. Non lo so, io ci ho letto in questa scelta un essere, diciamo, ben piantati per terra in un dialogo e in un dibattito di questo tipo. Sì, insomma, quello che hai detto è difficile contrastarlo, nel senso che condivido e... Io personalmente, perché al di là della stima immensa che nutro per caparezza, che penso sia veramente un grandissimo, grandissimo artista, ma penso talmente tanto che sia un grandissimo artista che non solo vorrei conoscerlo, ma come dicevo prima a Danilo, mi piacerebbe, non so, in qualcosa lavorare con lui. Quindi, so fa che, a portare un caffè a caparezza, non lo so. Ma detto questo... Facciamo un appello. Caparezza, se non bevi il caffè comincia, perché te lo porto io, va bene? Perfetto. Oh, vediamo. Lo prendiamo dall'altro forno. No, basta, basta. No, però penso che a me personalmente, più vado avanti, la mia vecchiaia, più la cosa che mi commuove, mi emoziona, è la dignità umana. Che non vuol dire necessariamente retorica, no, per carità, per carità, però è proprio la dignità. Cioè, io quando vedo delle persone di qualsiasi origine, di qualsiasi ceto sociale, di qualsiasi possibilità o non possibilità, che però portano con semplicemente l'orgoglio della normalità, la dignità, mi emoziona e mi fa voler dire voglio essere così. Sì, capito? Poi magari non ci riesco, poi sì. E credo che questa canzone, soprattutto per noi, no, che facciamo un lavoro magari fantasioso, dove andiamo sempre a cercare un immaginifico, no, personale, dove magari io per esempio mi chiedo spesso, no, ma perché faccio l'attore? Perché ho cominciato, perché cosa vorrei fare un attore? Magari vorrei fare, che ne so, un supereroe, vorrei fare, vorrei volare, vorrei, non lo so, insomma, fare cose straordinarie. Eh, te faccio la domanda subito, che supereroe vorresti essere? Io vorrei essere Hulk. Hulk, ma secondo te, cioè, io perché immagino sempre i supereroi a Roma, perché ciò si immagina, ne so, se sei Flash a Roma non ce fa in cazzo, perché... C'è traffico. Stai su raccordo, sei settore, capito? Io sempre a Roma vorrei essere Aquaman, perché tu immagini, dal mare, vedi, arrivi sul Tevere... E poi saluti Jack, la nutri... Ti rienutri addosso a gente, capite? No, io Hulk. Hulk. Hulk a Roma. Ma solo perché mi piace fare... Spacca! Tu ci vorrei pagare per dire Spacca! Hulk che fa stecca vara per tutti. Esatto. Però hai visto... Ecco, vedi? Hai visto Hulk? Riflettiamoci. Riflettiamoci. No, sto scherzando. Hai visto Hulk? Si strappano tutti i vestiti, ma i pantaloni rimangono sempre, perché? Perché ha un senso del pudore. No, c'è il pisello piccolo, Hulk, è la verità. Soprattutto, forse non c'è la verde e si vergogna. Comunque Hulk, questo... Se mi piacerebbe Hulk... Domani facciamo uscire un comunicato... No, lo so, è un super... Un po' sui gen... Nel senso, non tutti... No, è figo. C'è chi vorrebbe essere, che ne so, Iron Man. Io ho paura che Hulk è pieno di erni. Io soffro un po', c'ho... Sono sempre così, capito? Sicuramente c'ha il fegato che... Hulk, Hulk, non lo so, è strano Hulk. Alessandro, tu che supereroe vorresti essere? Perché poi Alessandro non ci dice mai niente. No, io voglio uno invisibile, cioè uno che sparisce, capito? Così. Tutti ne va. Ti piace sempre sta mezzagge? Non te trova nessuno, capito? Quindi, attenzione, l'uomo invisibile, Hulk è Aquaman. Sì. Un psicologo direbbe tanto di noi tre in questo... Però io Aquaman, Jason Momoa... È proprio... Però posso dirti... Quello dei fumetti fa schifo. Hai visto Jason Momoa senza barba? Eh. L'hai mai visto? No. Qualcuno l'ha visto? Che è? Tipo... Assomi al Gabibbo. Sì, hai visto lei? Sì, sì, io... L'hai visto? È brutto! Lo vedi? No, no. Pensa che io senza... Non so d'accordo. Io senza barba sono ancora più brutto. Jason Momoa è bello sempre. È sempre Jason Momoa. Cioè, non so come dire. Però, senza barba fa strano. Pensa se te volevano scritturare per un film insieme a Jason Momoa, vedrà questo podcast e poi dirà... E dirà... Se fa cresciare barba. E me dirò la barba. Ci racconti la tua prima recita scolastica? Che parte hai interpretato? Una parte parlante oppure facevi l'albero? No, devo dire la verità che la mia prima recita scolastica è anche la causa della mia scelta di vita. Perché in realtà io avevo questo professore alle medie, fratello Remigio. Io ho fatto le medie dai fratelli Lasalliani. Quindi, senso di colpa, cattolico, tutto. Poi ho ripagato tutto. È certo. Però... Avevo questo professore che era innamorato dell'arte del racconto. Ed era bellissimo perché noi bambini... Quanti anni avevi? Prima media. Quanti anni si hanno in prima media? 22? Undici. No, allora, quanti anni si hanno in prima media? Undici. Undici? Eh, undici anni. Tu non so quant'anni ci hanno in prima. Vabbè, undici anni. Praticamente, fratello Remigio ci spiegava l'Odissea, quando faceva Polifemo, il ciclope, chiudeva un occhio, sbavava, ci raccontava. E noi bambini impazzivamo, perché lui la viveva proprio. E lui aveva un repertorio, prima media, di recite scolastiche, perché poi era fissato con le recite scolastiche. Prima media, tutti insieme appassionatamente. No, scusa, prima media, Odissea. Seconda media, Rugantino. Terza media, tutti insieme appassionatamente. E lui affidava le parti così, un po' a cazzo di cane. Cioè, non è, tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo. Forse era bravo a capire la simpatia, non lo so. Detto questo, girava un VHS maledetto, tipo The Ring. Hai presente The Ring? Vuoi ricordare? Vuoi ricordare The Ring? Cioè, era sto VHS che tu dovevi mettere a casa e dovevi studiare, quando ti affidava un ruolo, quello che faceva il ragazzino che veniva inquadrato, penso, nel 1980, boh, 60. Quindi, in seconda media, lui mi fa fare Mastro Titta e Rugantino. E io studio questo bambino, che in seconda media, però, dell'epica, faceva Mastro Titta, che imitava lui anche bene. Aldo Fabrizi. Però io imitavo male, lui, che imitava bene Aldo Fabrizi. Quindi io, ma è una cosa orribile. Però, mi sono talmente tanto divertito, che ho detto questa cosa la voglio fare tutta la vita. Quindi, in realtà, io sono stato fortunato. Perché? Perché? Ma non perché poi sono riuscito a fare l'attore o meno, almeno fino ad oggi. Facciamo ricordo. Però, perché ho avuto molto presto un incontro con la mia passione. Grazie a un incontro. E quindi, in questo senso, la scuola, a me, ha aiutato. Ma io te credo. Sta cosa la capisco. Perché sai qual è stato il mio primo approccio allo spettacolo? All'asilo mi hanno fatto fare una recita. Io stavo in piedi, in mezzo a tantissime persone, da solo. E mi sono fatto la pipì addosso, mentre recitavo. E proprio, ma ne ho fatta talmente tanta, che ho fatto la pozzanghera sotto. E nonostante tutto, andavo avanti. E mia mamma mi fece una foto, in quel momento. E l'ha messa davanti all'entrata di casa, perché lei la considerava tenera. Ma tu ti rendi conto? Io c'avevo questa patacca davanti e cantavo Tu scendi dalle stelle, una roba del genere. Però The Show Must Go On. E l'ho fatta proprio tutta. Ma tu ti rendi conto che ci hai appena svelato perché vuoi essere Aquaman? Lo vedi che tutto torna? È incredibile. Ma lo vedi? Questa è, è tipo una seduta del psico. La mia compagna è psicoterapeuta. Dopo, sono 50 euro, scondo come di 40. Va bene? È vero. Don Remigio. Ma sei rimasto in contatto? È morto. Eh no, vabbè, ma era vecchio. Ma no, lui ti vedeva all'esordio in televisione e diceva io. Non credo che l'abbia visto e non credo che sia mai stato consapevole, tra l'altro, di questa mia cosa. Sarebbe stato molto bello. Sarebbe stato bello, sì, non lo so. No, però devo dire che io sì. Insomma, sono stato... Però primo ruolo, ma strotitta, insomma. No, no. Se sei stato attento, ti ho detto che quella era la seconda media. Prima media ho fatto l'Odissea. Stavo un camerino. Era riserva. Ma c'era il ruolo. Facevo le saette di Giove. E quindi entrava un attimo. Come se fanno? Hai saette così se fanno? E che ne cazzo? E ti ho detto che vedevo il VHS e quindi facevano... Giuro. Terza media, tutti insieme appassionatamente. Però credo che facessi la macchina. Cioè, io ero il cartonato, sì. E mi sa che il masturitta l'ho fatto male, male, male. Perché poi a un certo punto... Ma questo fatto che nelle scuole non c'erano ruoli per venti bambini e ti facevano fare gli oggetti inanimati, secondo me è un trauma che ci porteremo dietro per sempre. Perché tu che sei la nuvola. La nuvola, l'ombrello. Ma perché? Però poi, pensa, che quando poi, insomma, vabbè, ho fatto l'accademia Silvio Amico, dopo che esco dalla Silvio Amico vengo preso da questa compagnia teatrale e comincio a fare la cavetta. La famosa cavetta, no? E io sto praticamente un anno e mezzo in tournée con l'Enrico IV di Pirandello. Non ho senso se vi raccolto il pippone sul Pirandello, però... Praticamente io ero vestito da araldo medievale e io facevo questo. Lo spettacolo dove eravamo a tre ore e un quarto, eh? Io entravo... Mettevo armatura, fiero... Prendevo il mio araldo, che era questa sorta di... Vabbè, un araldo. Un araldo. Cioè, tutti sanno com'è fatto un araldo. Una sorta di lancia particolare. Prendevo questo araldo, entravano i miei colleghi tutti fieri vestiti e facciamo così. Ho! Basta. E applauso. Tre ore, siti, immobili. Giuro, giuro. Tre ore, siti, immobili. Ho! Giuro. Basta. Un anno e mezzo. Che era un po' come la saetta, era uguale. Cioè, la stessa cosa. Eh sì, era un po' come... No, almeno... No, la saetta era molto più dinamica. Cioè, la saetta sudavo. Lì, ho! Giuro. Enrico IV di Pirandello. Araldo I ero. E però eri l'uno, quindi... C'era anche l'araldo IV, però io ho fatto l'uno. Che comunque c'è un ruolo meno importante di te. No, no, faceva come me. Quanto gli davano a naraldo? Cioè, quanto piava a naraldo? Andavamo all'Epeca, il minimo sindacale, quindi penso 40 euro l'orde. 40... C'erano già gli euro, sì? Sì. Vabbè, no, tu sei giovane. Ah! Era divertente. Poi ho fatto i provini in quel periodo per Romanzo Criminale. E dovevi fare l'araldo. E il secondo anno avrei dovuto fare l'araldo. E invece no. Quanti eravate a giocarvi il ruolo? Per l'araldo? Penso tanto. Ah, Romanzo... No, che ne so. Tanti immagini. Tu non arrivavi da favorito? Eri uno sconosciuto come tutti gli altri? Facevi l'araldo, che dici, sai, è arrivato... No, ma eravamo tutti sconosciuti, perché l'editoria proprio era così, no? Sky voleva fare una serie di sconosciuti, con il regista Stefano Sollima, con la supervisione artistica di Michele Placido, però hanno fatto i provini a tutti, quindi... Ti posso dire che... No, eravamo, penso, tanti. Non ne ho idea. Io però ho fatto, perché tanti altri attori che poi hanno fatto la serie hanno fatto vari provini per vari ruoli. Io invece ho sempre fatto lo stesso. Ho fatto sette provini sempre per l'Ibanese. Per esempio, Marco Bocci fece all'inizio il provino per il nero, poi ha fatto il primo per Cialoia. E mi ricordo che ci incontrammo io e Marco al primo provino, entriamo, poi usciamo, ci incontriamo al semaforo col motorino, lo guardo e faccio... Ma come è andata lui? Tu? Boh. E lui? Boh. E siamo partiti. Questo è stato il primo giorno che ho incontrato Bocci. Però, a parte questo, non lo so. No, ma tanti, penso. Immagina che avranno visto, che ne so, tutti gli attori under 30 romani all'epoca disponibili. Secondo te cosa li ha convinti di te? Cioè, tu hai capito qual è stata la cosa? Dice, quello sguardo, quella cosa... Io ho capito, per esperienza personale, no, è molto spesso... Io insegno, faccio anche dei workshop dove insegno a dire ha in maniera molto costruttiva. Ma no, ma è così, quindi sai, è difficile evidentemente. Io ho avuto fortuna che il regista, in quel caso, fosse stato per quel progetto Stefano Sollima. Perché non credo di aver fatto il miglior provino per il libanese. Assolutamente no. E magari, che ne so, Sollima ha avuto fortuna che io, in quel momento, avessi 23 anni e potevo fare attore. Boh. Così come tutti gli altri. Sai, è un innamoramento. Poi, questo, diciamo, su larga scala, quando fai dei provino, poi quando rientri in carriere diversi, ci sono altri parametri anche, no? Però, fondamentalmente è questo. E questa è la cosa più difficile da accettare, perché la verità dei fatti è che quando noi andiamo a fare un provino, ci mettiamo in gioco. E quando c'è un rifiuto, tu lo sai che è un rifiuto, non alla persona, ma è un rifiuto perché evidentemente io non vedo... Però dentro ti senti rifiutato. E quindi fare questo lavoro necessita di un grande lavoro parallelo su se stessi per capire che il proprio valore non dipende dal valore che viene dato da un altro a te. Non sto dicendo che io ci sia riuscito, sto dicendo che ci sto lottando e sto dicendo che questo chiaramente fa parte del percorso individuale. Soprattutto un ragazzino, immaginate. Poi ci sono altre cose da dire, cioè che nel teatro è diverso perché il teatro non hai la macchina da presa puntata, no? Ognuno di noi ha una fisiognomica che prende la luce in un certo modo, da cui dipende più o meno, noi diciamo banalmente la telegenia, non c'entra un cazzo la telegenia. Cioè dipende come ti fotografano, si dice al cinema, cioè come ti illuminano. Un direttore della fotografia che io per dire ho una faccia particolare, no? Ho una fronte molto grande, come potete vedere il frontone. Mamma mi diceva che ero intelligente e io ero contento. Ci ho messo anni per capire che era solo una scusa per non farmi soffrire, ma l'ho ringraziata mamma. Io ho un viso particolare, ho gli occhi incavati. Allora è chiaro che nell'iconografia culturale è difficile che io possa essere preso, mo dico cazzate, per fare Romeo, ok? A meno che non ci sia un regista che abbia una visione particolare di quella storia, ma come una donna che non abbia quelle caratteristiche iconoclastiche, è difficile che venga presa per fare Giulietta, a meno che la regia non abbia una scelta. Poi voi dite, ma Romeo e Giulietta erano belli come Di Caprio e quello? No, ma perché Gesù Cristo era biondo con gli occhi azzurri? No, però noi viviamo di iconografia. Non sto dicendo che è giusto o sbagliato, sto dicendo che sono considerazioni che un attore fa, deve fare, soprattutto quando comincia. Perché allora che succede? Allora per esempio io ho un aspetto sicuramente forte in video, poi la prima pizza è mia, la seconda pure, la terza solo se mi riarso, se diceva l'Alessandrino. E io ero tra quelli che rimanevano per terra e manco si rialzavano alla terza. Questo, come dissi, per conquistare la mia compagna. Io senza pistole so' paperino, capisci? E praticamente, è chiaro che io ho, lo so, insomma, so di avere un volto particolare, no? So di avere, se volete una durezza, se volete... Non lo so come cazzo si chiama, però, insomma, sicuramente la mia dolce... Non è che io sono, non sono una persona dolce, sono estremamente dolce. Però è chiaro che se tu ragioni per... È difficile abbattere lo stereotipo, non so come dire, no? Poi ho una voce sicuramente baritonale, quindi porta dei toni, porta delle vibrazioni diverse da una voce tenorile. E questo può essere un pro, può essere anche un contro per altri ruoli. Però ecco, quello che voglio dire, scusate, vi sto a attaccar pippone, lo capisco. Però quello che voglio dire è che se vuoi fare l'attore, consiglio a te, ragazzo o ragazza, in questo mercato italiano, eh? E un po', però anche in generale questo vale. Cioè, non ti buttare in una lotta contro i mulini a vento, perché non serve a niente, produrrà solo frustrazione. Capisci dove puoi investire come attore o come attrice. E lì vai come se non ci fosse un domani. Questo è un consiglio onesto, sentito da un fratello maggiore. A gratis, proprio. E scopriamo un Francesco Montanari metallaro, ce l'immaginiamo col chiodo, all'Alessandrino, che cammina. All'Alessandrino col chiodo, i capelli lunghi. No, allora ti spiego. Io ho un sogno attoriale che non si avvererà mai, che è poter fare James Hetfield. Cioè, il frontman di Metallica in un film. Non si avvererà mai perché. Primo perché non sono nativo americano e quindi non ho un accento americano. Però, magari facciamo una band del Lungotevere che suona in Metallica. Però potresti fare come Celentano che faceva, capito, il Romano. Rogantino. È la stessa cosa. Infatti, vedi, ma che è statia, uh. Devi iniziare a bere un sacco di whisky se vuoi fare Hetfield. Yeah, yeah. Bellissimo, bellissimo. Però te ci vedo, te ci vedo. Bello, bello. Allora, noi lanciamo delle petizioni a decore perché poi, se succede, ce le accreditiamo e diciamo che è merito nostro. E io non farò nulla per smentirlo. Prima cosa, prossimo video di Caparezza. Questo lo ritagliamo e lo mettiamo su TikTok, su Instagram. Caparezza, il tuo prossimo video, attore principale, Francesco Montanari. Io nel video di Caparezza che faccio James Hetfield. Nel metaverso succede questo. Metaverso. Seconda cosa, se ci dovesse essere qualche produttore interessato a rifare una vita de-metallica, ma ambientata a Roma, ci scegliamo un po' da attori romani e quindi ci mettiamo Francesco che fa Hetfield. Può essere pure ambientata in America, cioè ovunque. Ma sarebbe più bella che poi vi mangiate la carbonara. Ma sì, ma l'importante è che io sia nativo italiano. Poi possiamo stare pure in Congo. A me... Yeah! Ci sono degli attori in erba qui? O degli attori anche invece affermati? Qualcuno che fa l'attore in sala? Dice no, però ci sono attori che fumano tanta erba. In erba non lo so. No, non credo. No, perché comunque però ci sarà sicuramente qualcuno che... Poi segue il podcast e si segna un po' delle cose che ci sta dicendo Francesco, perché mi è venuta in mente una cosa, ma... Dimmi. In maniera molto veloce. Sì. Fare l'attore a teatro, a cinema o in televisione? Sono tre mestieri diversi o è lo stesso? Te ti approcci in maniera diversa? Immagino di sì. Però sono cose molto lontane tra loro. No. Allora, io non credo che esista. Soprattutto ormai abbiamo sdoganato... Guarda, sto respirando perché non voglio riattaccare un'altra pippa. Te lo giuro. Ok, sarò breve e sintetico. Metti il contatore, Danilo. C'hai un minuto. Federica che mi fa così. C'hai un minuto di tempo. Dai. 59, 58. Pensate a lei che mi attacca a me, però... No, sto scherzando. Allora, no, la verità è questa. Allora, noi purtroppo italiani viviamo una tradizione, che è l'istrionismo. Guardate bene, che adesso sarò molto eretico, ok? Che porta all'istrionismo? L'istrionismo porta a far sì che l'attore debba dimostrare di essere bravo, di essere il più bravo, ok? Partiamo da una cultura, bla bla bla, vittorio Casma, per intende, va bene? Allora, questo ha portato il teatro a essere considerato artefatto, finto, perché in realtà lo era, ok? Perché l'istrionismo è un po' la differenza tra un musicista che suona perché ha qualcosa da dirti o da dirsi e uno che suona per farti vedere quanto è bravo a suonare la chitarra, ok? Apprezzo la tecnica, sei un grande, mamma che cazzo me ne frega, ok? Viceversa, fai tre note, io mi emoziono, d'accordo? Poi all'interesse di ognuno, il suo, è legittimo anche che esistano i dream theater, va bene? Detto ciò, quindi questo ha portato una, come dire, una lontananza di un pubblico dal teatro, pensando che il teatro sia soltanto un percorso intellettuale di esercizio di stile, va bene? Su larga scala. Quindi anche spettacoli con le pretese realistiche fanno in modo che in realtà di realismo non c'è niente, va bene? Ora questo fortunatamente è cambiato, sta cambiando, non c'è più. Quindi adesso il teatro realistico, perché esistono vari generi, del tutto assolutamente estremamente validi, io mi occupo di teatro realistico però, sono anche un grande spettatore di teatro non realistico, però io mi occupo di teatro realistico. Il teatro realistico vuole riprodurre la vita, quindi l'attore non deve approcciare come performer, deve approcciare come attore, quindi come essere vivente, cioè deve scomparire attraverso le azioni determinate dal copione. Perché? Credo, perché prima di essere un attore sono uno spettatore, che io non voglio vedere bravi attori, non mi interessa, io voglio vedere esseri umani che vivono e lottano in una storia. Perché così mi emoziono, altrimenti no. Quindi questo approccio è lo stesso per un attore, sia che sia on the stage, sul palco, sia che sia di fronte a una macchina da presa. Ciò che cambia è il linguaggio, che non è responsabilità dell'attore, ma è le convenzioni e le regole del linguaggio. La differenza sostanziale è che nel teatro tu tutte le sere nasci e muori, quindi tu tutte le sere riproduci e ripercorri tutta la via. L'audiovisivo, per motivi logistici e produttivi, che si dicono location, cioè gli stessi ambienti in cui si svolge la storia, hanno necessità produttive di fare in modo che io devo esaurire quella location tutta insieme. Che ne so, stiamo girando questa scena di questa serata, voi dovete girare vari podcast, si fa tutta la settimana finché non si è esaurito il podcast qui. E poi si va a palazzaccio a fare il resto. Quindi tu nel film puoi avere prima scena podcast, 36esima scena podcast, dove i personaggi hanno vissuto 37 scene, quindi sono persone modificate rispetto alla prima nella trentesima, ottantesima scena, ok? Quindi che succede? Che l'attore deve essere preparato a partire esattamente nel momento emotivo e psicologico in cui la storia lo determina. Quello si fa tramite allenamento, come tutte le cose. Cioè, quindi tu dirai, è più difficile? No. È semplicemente un'altra cosa, o comunque più facile? No. È semplicemente un altro modo, perché invece di avere la scena precedente, che mi porta emotivamente nella scena attuale, cioè torno a casa prima, vedo la mia compagna che esce da casa nostra con uno che non ho mai visto, chi è? Mi tradisce. È un amico, il fratello che non conosco, non lo so. Quindi sto in ansia, scena dopo c'ho io a cena con lei, ok? Se io lo faccio a teatro, vivo l'esperienza con l'altra attrice, d'accordo? Quindi arrivo carico. Al cinema no, perché gireremo la scena in cui io vedo lei che esce, e lei non vede me e poi arriva da me, gireremo dopo la scena al ristorante. Quindi io, in camerino, in quinta, dove cazzo mi pare, mi preparo emotivamente per arrivare carico di quella temperatura che serve per girare la scena della cena, dove scoprirò che in realtà è suo figlio. No, scherzo. Mi sono spiegato? Sì. Ho attaccato il pippone? Un po'. Un po' sì. Io apprezzo l'onestà, lui ha fatto sì. Un pochetto, un pochetto. No, il minuto è poi. Io sono silenzioso perché, cioè, io vorrei diventare attore, quindi sto prendendo appunto. Vabbè, Dani, no, sta scherzando. Guarda, io ho questa parte qui che sembra Alessandro Borghi, fateci capire, ed è qua, sembro Frank Ribéry, quindi c'ho sta doppia. C'è un bel mix, sei. C'ho sta doppia fa, double face. Comunque, tutte le volte che vengono degli attori, poi Danilo, prima che vai via, ti ferma fuori, senti una particina per vedere il prossimo, quindi aspettatelo perché... Un cameo, un passo, capito? Poi pure... No, allora faccio la domanda, la domanda all'artista. Ma tu carichi mai la lavastoviglie a casa? Alessandro mi ha detto che io posso fare qualsiasi tipo di domanda. No, però sei scorretta. Non carico la lavastoviglie. Perché lo sai... Aspetta, io la carico sempre, ma male, e quindi lei la deve ricaricare. Però io la carico. Perché è una sorta di teoria, non esiste nessun maschio che è capace a caricare la lavastoviglie. Ma secondo me è una teoria femminile. Ma poi la devo accendere piena la lavastoviglie o a mezzo carico? No, benissima. Quindi pranzo e cena. No, che poi io veramente... Pranzo e cena. Io non so se per te è uguale, però per lei, per me, io riconosco un talento in lei incredibile, cioè, o comunque riconosco un mio deficit incredibile, cioè, io vedo la lavastoviglie che straborda di roba. Piena. E continua a infilacciare la roba. E io dico, ma dove cazzo li mettono? Ma i cucchiaini, ma dove... Arriva lei, che ci va? Ma lei, ma lei, ma lei, ma lei, ma lei, ma lei. La faccio, ma lei. E lo fa. Lo fa! Non è che non lo fa! E poi ste pazze, li lavano prima i piatti, prima di metterci dentro. No, quello non lo fa. Ma che senso c'ha? Che cazzo usi a fare? No, quello non lo fa. Cioè, sai, lava i piatti. Hai ragione. Quello non lo fa, però facciamo un'altra cosa. Prima che venga la signora delle pulizie noi mettiamo a posto casa, perché non è carino far trovare casa in disordinazione delle pulizie. Quello lo faceva mia mamma. Eh, lo so, è quello lo faccio. Dopo, dopo c'è pure una domanda la sua lavatrice, però la faccio da. Non la faccio, la lavatrice. Ti ho risposto. Ah, quindi posso. Puoi andare avanti, Alessandro. No, e ti ringrazio, perché comunque porti sempre su, in alto. Cioè, comunque mi dai una mano a elevare il podcast a livelli inarrivabili. È anche il motivo per cui sei stato chiamato. Francesco Montanari non è capace a caricare la lavastoviglie. Domani, cioè, esce proprio l'articolo. No, no, è vero, è vero. È vero, ahimè, è vero. Io so costretto agli ospiti quando gli telefono prima a dirgli ma lo conoscete Danilo? Lui dice delle cose simpatiche. Lo sai che il ticino me l'ha chiesto? L'ho fatto anche un po'. Non sto scherzando. Perché trovi la persona ripermalosa che non lo conosce, quest'ironia sua così un po' becera. E sai io che gli ho risposto ma lo conosci Danilo? Sì, sì, quello della lavatrice. Ti chiedi. Allora riguarda questo qual è la persona non più famosa però quella di cui ti vanti che ti segue su Instagram? Tipo io ce n'ho due senza nulla. Uno è Francesco Montanari quindi sono tre. Ah, perché io non ero incluso. E' spulso! E' rincluso. Ha cominciato l'attore preferito. Uno, l'ho sempre detto, è Ospetec perché me ne vanto e l'altro è Tiberio Timperi io ce n'ho due persone e Francesco Montanari quindi butta là. Tu, c'hai qualcuno di cui dici cazzo questo mi segue? Cioè pure che ne so? Eh, lo sai che non lo so? Non lo so. Tu non sei molto solo. No, non so chi mi segue. No, c'ho un po'. Io sono malato, io vedo chi mi segue, capito? C'ho Emi Schilla. Beh. Fabrifibra. Me rompe il culo, regà. Non c'è niente di me. No, guarda che... Ospetec no? Non mi segue. Eh, no. Io c'ho... Cioè però forse... C'è un appello a Ospetec segui per favore Montanari. No, no. Io non dico che fai una parte però almeno seguilo su Instagram. No, non lo so. C'hanno un po' di persone. Virginia D'Apaele per fatto. Grande, grande Virginia. No, no. Ma proprio anche non, capito? Non inerenti a... C'ho l'altro forno. Da oggi. No, forse è già... Ma tu pensi che mi ha detto sta cosa e neanche ti segue, però? Ma poi va a vedere che lui manca è da Alessandrino. Ma tu dico io. Vabbè, Alessandrino... Quando vuoi alzare il livello vai. Non so come, ma puoi continuare. Una delle cose che ci facciamo raccontare... Ma poi regà, io queste domande me le scrivo, cioè non capisco perché. Tu carichi mai la Lavastovila? Era pure la prima. Quindi ci tenevo proprio. Quando è venuto... La puntata numero due è venuto Ketama, il rapper. Lo conoscete Ketama? Dunque lui a Ketama gli ha chiesto se faceva l'arbero di Natale. Vabbè, mi sembrava strano. E lui gli ha detto io me lo fumo. No. No, non tagliamola perché sì. Che forse ha risposto proprio così. No, ma ha detto che lo fa. Perché come tutti. Sembra... Sono domande che mi piace fare a me. Ma quali sono... Vita quotidiana, ragazzi. Quali sono i film che fanno stare bene Francesco? Quelli che magari si è visto cento volte quando te lo dice un attore o comunque qualcuno che lavora in quell'ambito o uno lo prende più in considerazione e dice fammi andare a vedere un po' che gli piace a Francesco e ti chiedo delle battute veloci sui film che ci hai detto. Quindi il primo film che mi hai detto è Il Lato Positivo. Sì. L'avete visto mai? Alzata di mano. Quanti di voi hanno visto Il Lato Positivo? Uno, due, tre, quattro, cinque... Sei. Vabbè, buono. Di solito abbiamo un pubblico ignorantissimo. Quindi no, stasera... Vabbè, ve lo consiglio. No, Il Lato Positivo perché è il film che avrei voluto fare come regista. Voi direi, chi se ne frega, lo capisco. No, perché ha una modalità meravigliosamente vera di trattare delle relazioni complesse anche di trattare argomenti di patologie amore, non voglio usare parole sbagliate, patologie psichiatriche? Giusto? Non ti vedo, sei al buio. Se n'è andata, secondo me se n'è andata. Sei al buio, di qualcosa. Oh, sì. Vabbè, io non sono un tecnico adesso. Però non solo quelle perché quelle sono quelle diagnosticate diciamo nel film dai vari professionisti, no? Della psichiatria. Ma poi tutto il resto delle famiglie intorno, gli amici, non è che stiano proprio diciamo come noi, come tutti noi. Ed è un modo, è un film che dà molta speranza perché io devo dirti la verità che più vado avanti pur facendo anche questo mestiere e avendo fatto anche tante cose che non danno speranza però più vado avanti più c'è un po' bisogno di speranza nel vedere film e serie. Che ti trasmettono un po' di messaggi positivi. Ti giuro, sto invecchiando. sto metabolizzando questo ciccio che è una cosa molto bella e nel secondo film che ci hai detto che poi è un film animato ci sono messaggi positivi cioè tu sei il primo che porta oltre che il metal sei il primo che porta un cartone animato nella scelta dei film perché tu hai detto il re leone. Il re leone, giuro. A noi nati negli anni 80 ci ha cambiato la vita. Qui ci deve essere uno. Oh! Svegna! Non so se dice così. No, il re leone perché? Ecco perché il re leone è il cartone chiaramente vabbè poi tutti derivati pure il film però il re leone è amleto è amleto è la storia di amleto di William Shakespeare ed è secondo me una trasposizione meravigliosa e una dimostrazione effettiva di quando l'archetipo che è appunto in questo caso l'amleto cioè l'archetipo si intende un una modalità umana di relazionarsi nell'ambito familiare che poi si sviluppa nella società sono stato bravo? annoisce ma sta al buio non vedo niente quindi diciamo che sì chittà già consente sì e amleto è uno di questi che riguarda la famiglia è un argomento comunque che mi sta molto a cuore anche che è fonte di varie 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 infinite riflessioni e però è la base di tutte le relazioni umane e amleto cioè il re leone è esattamente l'amleto fatto a cartone animato perché abbiamo un re meraviglioso che muore ucciso dal fratello invidioso che però è un fratello invidioso ma anche profondamente carismatico un principe destinato al trono che viene cacciato e che poi non vuole il suo destino e alla fine arriva il re il fantasma del re che dice ricordati chi sei e pensa che nel testo il fantasma del papà di amleto indovina come si chiama? amleto cioè il fantasma di tuo padre porta il tuo stesso nome e noi ci scherziamo tanto quando come si chiamano come chiamiamo nostro figlio eh lo chiamiamo Michelangelo perché papà si chiamava Michelangelo no io non lo chiamo come nonna questa cosa dell'eredità sembra un po' dietro questo nome c'è un po' una condanna di un destino forse per Danilo è troppo si sta sentendo male cioè io userai delle parole più semplici francese scusa ho detto io attaccavo i pipponi e ancora non ho letto pensa di no però insomma ecco penso che quello sia un insegnamento profondo per i nostri per chi fa questo lavoro perché magari ci inventiamo sempre cose incredibili originali e poi alla fine dell'essenza ora direi una parola epitome nell'epitome no questo è il mio cervello che fa no perché io ti dico no alla fine basta basta traslare gli archetipi capito a proposito di epitome che non io non so che mero fumare io voglio leggere una domanda che avevo scritto ma non l'avrei mai fatta però tu vai in palestra ti alleni ma me l'hai fatta prima cioè no te l'ho fatta prima fuori onda per sapere ti alleni io mi alleno ma non in palestra ma usi delle mutande specifiche per l'allenamento non so perché guarda ho scritto sta cosa cioè questa forse è la peggiore che hai fatto da sempre cioè tu usi no vedi usi usi guarda che qua la pipì acqua tu usi le mutande le mutande specifiche per la palestra perché ultimamente mi sono rapportato con un mio amico e ho scoperto che ci sono molti ragazzi che hanno degli slip specifici per fare palestra allora mi sono sentito io in difetto perché io come mutande io ho addirittura mi sono comprato le mutande quelle dell'eurospin e ci faccio tutto ci vado pure in palestra non usi delle mutande no io ho dei boxer aderenti ah perfetto non so sono specifiche quelle è finita è finita qua la domanda ma tu le più guarda l'epidome dove ci ha portato una tragedia che non c'entra niente con varicocele o cose no 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 neanche con la prostata scusa Francesco scusaci senti io invece chiedo scusa poi perché invece lui fa perché ho tacco di poso pesante no no ma io proprio pensa io sono talmente pesante che la prima volta che sono andato alla mia psicoterapeuta mi ha detto ma lei che sta leggendo delitto e castigo e legga zero calcare ma tutto lei quindi figurate c'era ragione però come no c'è la sezione apposta per le domande quindi tenetele in caldo poi come dice abbiamo pure il pubblico che fa come cazzo gli pare no anzi bene perché non è che mi ha detto c'è qualcuno che può fare domande no solitamente noi chiediamo sono loro che ci dicono chiediamo se ci sono delle domande nessuno mai fa domande quindi avere fatevi un podcast vostro che cazzo volete ci abbiamo messo anni per fare sta cosa no ah ma è una domanda relativa alle mutande no allora si si falla adesso perché fai l'urologa che fai cioè perché che domanda vuoi fare così la riportiamo una domanda sulle mutande le riportiamola dal pubblico ah si 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 c'è c'è assolutamente no però sono talmente curioso che poi finiamo subito io ti prego di smetterla mi dispiace Francesco dai dopo faremo le domande intanto tu ci hai detto attori esteri e film esteri ma scopriamo Montanari diciamo sull'audiovisivo esterofilo oppure ci vuoi dire anche qualcosa di italiano d'italico anche vista l'aria che tira ma allora la verità è che è chiaro che ho messo poi tu mi hai chiesto cinque film è come chiedere qual è il tuo libro preferito ma che ne so milioni boh ci sono dei film italiani meravigliosi anche attuali non lo so forse è più bello sentire gli attuali perché tutti rimari il capolavoro dell'epoca se ci dici qualcosa attuale di bello anche mari uno stimolo per andarcela a vedere perché poi io ho visto un film molto un piccolo film in realtà molto piccolo non per la dignità del film ma perché è un film che ha avuto un low cost che è stato secondo me un grande tentativo riuscito di una regia cinematografica che sta sul pezzo e che sta anche avanti si chiama Space Monkeys che vi consiglio di cercare non so dove adesso potreste vederlo forse lo trovate su streaming il regista si chiama Aldo Iuliano ed è un film anche molto intrigante un thriller anche ironico insomma è avvincente non è depressivo state serene perché perché Aldo è un ragazzo ragazzo insomma ha 40 anni è un uomo ha fatto questa regia ho visto il film ed è veramente la realizzazione di un'opera che ha una forte idea identitaria io credo che molto spesso il nostro settore soprattutto cinematografico soffra molto di un'omologazione di un'esecuzione di certi parametri come dire indotti non lo so forse da chi non lo so se da una richiesta di mercato non so chi fa questa richiesta di mercato senza entrato specifico però per tanti anni abbiamo visto sempre gli stessi film fondamentalmente sempre le stesse dinamiche le stesse relazioni poi io parlo del mio gusto personale però di cose che non andassero mai realmente a fondo delle mie esigenze come essere umano cioè argomenti toccati in maniera superficiale e come abbiamo visto il lato positivo è un film molto divertente quindi quando dico in maniera superficiale o profonda non intendo dire in maniera triste drammatica no perché voglio dire noi viviamo tutti i giorni poi siamo romani e siamo famosi nel mondo per la nostra grande ironia quando soffriamo spaventosamente c'è sempre quella risata che ci toglie perché l'ironia è un modo per sopravvivere no e l'ironia produce ilarità quindi non c'entra niente il dramma la tragedia o la commedia no però io sono stato abbastanza non interessato a certi parametri devo dire che oggi fortunatamente poi il cinema è stato in questi anni abbastanza confuso il cinema italiano perché tutta questa lotta secondo me del tutto non proficua tra ancora la questione se esiste la sala cinema notografica o meno credo soltanto ahimè molto spesso uno spostare la lente di ingrandimento veramente su un problema che non è ma il problema è nel momento in cui tu devi dare un motivo a un pubblico per uscire di casa prendere la macchina andare a un parcheggio trovare il parcheggio se hai figli chiamato Xitter se hai figli chiamato Xitter questo è l'apsus attenzione dottoressa e qui e qui praticamente dare un motivo per pagare dei soldi per vedere un film quando poi comodamente magari quel film te lo puoi vedere a casa quando invece poi ci sono degli esempi tipo L'ora più buia che è un film purtroppo non italiano ma è un film che tratta Winston Churchill e ha avuto durante la pandemia 7 milioni di incasso in Italia quando poi grandi commedi italiani non venivano viste questo secondo me è un sentore un sentore che va fondamentalmente considerato e valutato a livello culturalmente imprenditoriale che vuol dire vuol dire che se tu esci di casa per andare a vedere l'ora più buia potresti anche uscire di casa per andare a vedere il nuovo film con Francesco Montanari va bene occhi per lui perché non vai a vedere Montanari perché evidentemente Montanari rientra forse in un film non lo so che non ti interessa ok su larga scala quanti film non ti interessano allora perché non ti interessano poi che te li guardi sul divano è un altro discorso perché sul divano noi assorbiamo passivamente tante cose ma chi se ne frega non scegliamo lì scegli c'è una responsabilità c'è un investimento attivo allora che succede perché lo vai perché perché sei un po' deluso evidentemente dal cinema italiano mi chiedo sei sfiduciato e quindi purtroppo istintivamente fai fai tutta un erba un fascio quando non bisogna fare un erba un fascio perché esistono realtà italiane meravigliose chiaramente però sei portato un po' a non boh a non dare fiducia poi molto spesso secondo me noi del nostro settore facciamo un errore cioè siamo molto autoreferenziali tanto troppo noi pensiamo che l'Italia sia e ragioni come ragioniamo noi non è vero perché le persone fanno altro nella vita hanno le loro problematiche quotidiane le loro difficoltà le loro gioie le loro dolori fanno lavori che magari non hanno nulla a che vedere neanche una parola al giorno un pensiero una riflessione sul cinema sul teatro sulle serie tv fanno altro e devono avere un motivo per essere intrattenuti poi se noi li intratteniamo come li intratteniamo è una nostra responsabilità però credo ecco e sto zitto che questo sia un momento molto proficuo per non deludere il pubblico cioè per esempio mia ultimamente ha fatto 70.000 presenze il film di divano il film di divano di divano di matteo io vi consiglio molto di andarlo a vederlo e trovo edoardo è stato bravissimo ma milena mancini è stata eccezionale è un film con una tematica molto attuale sul bullismo è un film che arriva diciamo allo stomaco e ha fatto 70.000 presenze 70.000 forse adesso sta 80.000 che sono tantissime per un film italiano venduto anche come un piccolo film d'autore credo che ci sia tanta possibilità e credo che però bisognerebbe un po' smettere di autorizzarsi a fare determinate cose dopo che l'abbia fatto qualcuno e che abbiamo visto che quella cosa ha avuto un successo allora noi tendiamo a riprodurlo perché di idee ce ne stanno tantissime di sceneggiatori di creggi ce ne stanno tantissimi anche di registi mancano un po' i produttori ah ma scusate ho raccontato la trama del mio film preferito italiano no non è vero no volevo dire questa cosa perché ci tengo tengo il mio lavoro tengo la mia categoria tengo il pubblico poi io mi occupo di spettacolo dal vivo io dirigo un teatro a Narni insieme al mio socio Davide Sacco il teatro a differenza dell'audiovisivo di Sala sta vivendo un momento molto positivo dopo la pandemia però adesso sta a noi non deludere il teatro aveva distrutto completamente il pubblico italiano proprio entrando poi nel pregiudizio che il teatro è una rottura di coglioni non è così però vabbè voi direte ma tu lo fai che devi dire no sì certo Oste Bonorbino no però è un po' la differenza tra ascoltare un disco quanto so vecchio ascoltare un disco e andare a vedere un concerto è la stessa differenza il disco è impeccabile il concerto è irripetibile è un po' quello però capisco che abbiamo deluso il pubblico tantissimo deluso l'abbiamo allontanato l'abbiamo l'abbiamo fatto sentire di indifetto di non capire la nostra grande autorevolezza intellettuale quando in realtà era una maschera per sentirci noi migliori di che se sa quando in realtà adesso esiste un piedistallo che finalmente è stato tolto e quindi c'è un dialogo diretto col pubblico e si raccontano storie vere poi è chiaro esistono bei spettacoli brutti spettacoli ragazzi come esistono le carbonare che vengono bene le carbonare che vengono male però vabbè basta dal tuo punto di vista molto interessante perché poi soprattutto nell'avvento delle piattaforme della disaffezione delle persone nei confronti del cinema anche in questo podcast ma in generale parlando con persone dello spettacolo c'è chi identifica magari nei confronti delle abitudini del pubblico la causa c'è chi lo identifica nei confronti delle produzioni c'è chi lo identifica nei confronti il fatto che tu faccia che lo dica anche in chiave diciamo un po' autocritica nei confronti del settore di come si comporta secondo me è estremamente interessante ma tu hai detto una cosa verissima cioè però è proprio lì la chiave allora il problema o il problema il dato di fatto è che la pandemia intesa come lockdown ok quindi come impossibilità a uscire da una situazione coatta va bene allora la pandemia ha cambiato ha modificato le abitudini quotidiane le abitudini quotidiane diventano la nostra cultura cioè il nostro modo di concepire la nostra vita i ragazzi che avevano 16 anni che oggi ne hanno 21 20 non sono più cresciuti col mito del sabato il mcdonald di piazza di spagna e poi cinemino abbia del corso no perché io quando ero piccolo non c'è lo smartphone loro ce l'hanno qui hanno un altro tipo di mente un altro tipo di cervello un altro tipo di funzionamento un altro tipo di interessi soprattutto hanno a portata di mano senza impiegare fatica e dispendio milioni di possibilità ora questa cosa non si può far finta che non esista perché è la nostra quotidianità cioè non possiamo far finta mettendo additando come cattivo il pubblico che non va al cinema andate al cinema senza chiederci ma perché dovrebbero - cosa offriamo noi affinché loro vadano a vedere un film quando tranquillamente puoi vederti sul divano il 99% delle commedie fatte in questi anni dall'Italia ma te lo dico proprio da un punto di vista registico è chiaro che Freaks Out di Gabriele Mainetti se lo vedi al cinema vivi un'esperienza ma tanti film italiani di cui neanche faccio e non sto dicendo che sono brutti ragazzi sto dicendo che sono film dignitosissimi divertenti emozionanti li puoi tranquillamente vedere a casa perché no? mi domando allora la gente deve andare a vedere solo i Marvel no perché ribadisco che l'ora più buia che non è un Marvel ed è la storia di Winston Churchill di come ha affrontato la seconda guerra mondiale che sulla carta mi dovete di come un ventenne possa non scappare eppure sono andati milioni di ragazzi perché? perché come ci insegna il re leone se l'archetipo lo tratti come devi trattarlo arrivi perché parla di te hai capito? a me è venuta una voglia da andare al cinema ma davvero tra l'altro hai nominato Edoardo Leo che sarà ospite ve lo diciamo in anteprima il 24 maggio qui a Decore Podcast quindi ci sarà chiedilo Edoardo pure ce lo faremo raccontare anche da lui chiedilo Edoardo quindi segnatevelo e invece la prossima puntata sempre per restare in ambito cinema ovvero il 3 maggio ci sarà ospite Stefano Fresi e non vi perdete queste due puntate pure sempre per nominare in tema Re Leone perché loro hanno doppiato Pumba e Timon pensate insieme a tutto abbiamo fatto apposta nel film insieme a Marco Mengoni che doppiava Simba tutto avremo ospite anche Marco Mengoni anzi facciamo terzo pezzo scelto da Francesco Montanari come pezzo Decore ce ne andiamo al sud così e mentre siamo qui nell'attesa che rientra Francesco vi ricordiamo che Decore Podcast lo potete trovare su Spotify su Youtube che abbiamo già registrato 5 puntate ospite della prima puntata è stato Ketama poi ci è venuto a trovare Vinicio Marchioni abbiamo avuto nella terza puntata Zero Calcare poi è venuto Car Brave e nell'ultima puntata ci è venuto a trovare Max Giusti quindi se vi sta piacendo quello che sentite potete recuperare tutti i contenuti di Decore Podcast su Spotify e su Youtube devo dire qualcosa senti abbiamo parlato di musica abbiamo parlato di cinema adesso io ti ho chiesto un favore ma io non sapevo visto che l'ho scritta pure questa non so perché non so perché l'ho scritta però ma non so sei mai stato in una spiaggia per nudisti allora ci sono stato a girare un film e la cosa divertente è che quei poveri nudisti non sapevano di stare nel film era un campo lungo tutto a posto campo lungo sui nudisti esatto 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 comunque sempre mutande nudisti cioè tu c'hai un trauma infantile legato alla sessualità si ha pisciato sotto secondo me no perché poi la seconda domanda era c'hai l'ansia di stannuto tra i nudi cioè questa manco 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 marzullo a fare una domanda del genere ma perché comunque hai fatto questo mamma mia no perché io ho l'ansia di stannuto tra i nudi cioè non mi vergogno di stannuto ma il nudo tra i nudi c'ho sta sorta di competizione che mi fa paura un po' poi mi ricorda star wars in due nudi davanti non so a battaglia capito non so cosa vabbè comunque racconta questa non lo so la vuoi tenere questa la tagli questa tagliamo tutte tagliamo tutte tagliamo tutte no sì sono stato ma in realtà sai alla fine dopo un po' c'è fai l'occhio ti sembrano il mare ma basta che guardi guardi il mare guardi dritto negli occhi pensi di essere aquaman era meglio che ne la facevo però l'avevo scritta mi sembrava lavoro buttato senti visto che siamo in questo ambito così diciamo di nudisti sì invece t'ho chiesto se ci portavi un libro de core e poi t'ho chiesto anche visto che comunque non te damo una lira sei venuto gratis ho detto famolo lavorare il più possibile è giusto se ci leggevi un pezzetto del tuo libro de core e quindi visto che abbiamo una voce importante una bella dizione cioè un attore di peso legge Danilo da Fiumicino io ho portato manco ci vedo io ho portato un libro che si chiama Le lacrime di Nietzsche ora sì dai a ride voi direte no allora aspetta lui è credo di pronunciarlo bene Irwin Yalom ed è uno scrittore uno psichiatra grandissimo che ha scritto una serie di romanzi molto affascinanti molto belli anche molto divertenti giuro perché questo libro questo libro perché è stato il primo libro che mi ha regalato la mia compagna un applauso ci stava tutto infatti sì che cazzo questi gli devi di tutto ragazzi il romanticismo è morto no però perché questo libro devo dire che mi ha aperto tante strade e c'è un passo che voglio leggervi ma sarò molto breve e coinciso la gente è scappata vedi questa è una scusa no ma leggo leggo pochissimo perché pensa che è disoccupato però siete alza presto domani mattina allora diciamo stiamo a Vienna siamo nel 1880 c'è Joseph Brower penso si pronunci così Brower Brower ecco vedi Brower vabbè perdonatemi è tedesco lui sembra sembra il comitato visto su Ray 2 guarda la trasmissione quella dei Magalli a un certo punto esatto a un certo punto a Vienna questo Brower che è un grande come dire sui 40 anni è un geniale psichiatra dell'epoca a un certo punto gli viene chiesto un appuntamento da questa donna misteriosa perché questa donna misteriosa gli deve chiedere un grande favore cioè gli deve chiedere di avere come paziente Nietzsche però questa donna chiede un favore particolare perché Nietzsche il filosofo Nietzsche che all'epoca era già un filosofo ma ancora non era così famoso come poi diventerà non deve assolutamente sapere di stare in terapia perché è talmente ego riferito è talmente superbo che non accetterebbe mai di finire nelle mani di un terapeuta quantomeno umano se non se stesso e quindi parte tutta questa sorta di thrilling perché questo Brower si domanda ma perché Nietzsche non può sapere che sta in terapia da una parte soprattutto ma io come faccio a come dire fare il mio lavoro se Nietzsche se il paziente non sa di essere un paziente e la donna lo sfida dicendo è lei il grande psichiatra non io ora questa è la prima volta che si incontrano e e niente ve lo leggo dai sarò breve dura soltanto 700 pagine non vi preoccupate Brower cominciava a sentirsi frustrato e impaziente in questo caso Fraulein il quadro diviene ancora più complicato voi volete che mi incontri con un certo professor Nietzsche che considerate uno dei grandi filosofi del nostro tempo per persuaderlo che la vita o perlomeno la sua vita è degna di essere vissuta e per di più dovrei riuscire a fare tutto ciò senza che il nostro filosofo lo sappia lui salome la donna annoì emise un profondo sospiro e si appoggiò all'indietro sulla sedia ma come sarebbe possibile continuò Brower già conseguire il primo risultato curare la disperazione è in sé al di là della portata della scienza medica ma questa seconda condizione che il paziente venga curato surrettiziamente trasferisce la nostra impresa nell'ambito del fantastico esistono forse altri ostacoli che dovete ancora rivelarmi forse che il professor Nietzsche parla unicamente in sanscrito o si rifiuta di abbandonare il proprio remitaggio in Tibet Brower si sentiva molto stordito ma notata l'espressione assorta di Lou Salomé si controllò rapidamente in tutta serietà Froilan Salomé come potrei farlo adesso avete finalmente capito dottor Brower adesso avete capito perché ho scelto proprio voi invece di un uomo di più limitate qualità volete essere mio ospite per la prima colazione di domani dottor Brower come ho accennato prima della disperazione del professor Nietzsche ho qualche personale responsabilità ho moltissime altre cose da dirvi domani è impossibile temo non capita tutti i giorni che una bella donna mi inviti a fare la prima colazione con lei Froilan ma non sono libero di accettare la natura del mio viaggio qui con mia moglie mi rende sconsigliabile lasciarla di nuovo sola all'ora permettetemi di suggerirle un'altra idea ho promesso a mio fratello di andare a trovarlo questo mese in realtà avevo giusto intenzione di andarci con il professor Nietzsche consentitemi una volta a Vienna di fornirvi ulteriori notizie nel frattempo cercherò di convincere il professor Nietzsche a un consulto professionale con voi circa il peggioramento della sua salute fisica uscirono insieme dal caffè soltanto pochi avventori si attardavano ancora i camerieri stavano provvedendo alla pulizia dei tavoli mentre Breuer si apprestava a congedarsi Lussalomè gli prese il braccio avviandosi con lui quest'ora è stata troppo breve dottor Breuer mentre io ardo dal desiderio di godere ancora un po' del vostro tempo posso accompagnarvi al vostro albergo la richiesta colpì Breuer per il suo carattere coraggioso mascolino anche se uscita da quelle labbra sembrava giusta priva di affettazione il modo naturale in cui si sarebbe dovuto parlare e vivere se a una donna piace la compagnia di un uomo perché non dovrebbe prendergli il braccio e chiedergli di passeggiare con lui eppure quale altra donna di sua conoscenza avrebbe pronunciato quelle parole questa era una donna di stampo diverso era una donna libera non mi è mai spiaciuto tanto declinare un invito disse stringendo di più a sé il braccio della giovane ma è ora che torni indietro e che lo faccia da solo mia moglie che è innamorata ma anche preoccupata sarà in attesa alla finestra e io ho il dovere di rispettare i suoi sentimenti certamente ma e la giovane ritirò il braccio dal suo fermandosi di fronte sicura di sé forte come un uomo a me l'espressione dovere risulta pesante e oppressiva i miei doveri li ho ridotti a uno solo perpetuare la mia libertà spero dottor Brower che verrà il momento in cui non vi sarà più uomo o donna che debba subire la tirannide delle fragilità altrui quindi gli voltò le spalle con la stessa sicurezza con cui era arrivata Auf Wiedersehen dottor Brower al nostro prossimo incontro a Vienna ora questa frase spero dottor Brower no non c'è bisogno spero dottor Brower che verrà il momento in cui non vi sarà più uomo uomo o donna che debba subire la tirannide delle fragilità altrui ecco questa frase quando l'ho letta mi ha accoltellato perché io sono molto schiavo delle fragilità altrui cioè che vuol dire fragilità altrui perché magari uno si parla di uomo o donna marito e moglie uno pensa fedeltà no 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 non è quello cioè quante cose quante volte io non riesco a dire no per non dispiacere no qualcuno magari e non metto i confini però perché magari lui lì per lì non si dispiace poi io lo faccio contro voglia e dentro di me questa cosa lavora sedimenta e quindi divento schiavo della fragilità altrui o quante volte magari non riesco a che ne so a delimitare il mio spazio vitale nei rapporti umani no cioè forse è una cosa che parla tanto a me magari a voi no però ci tenevo a portarvi una mia un mio gruccio non so come dire e leggere in un libro non soluzioni chiaramente ma questioni mi mi aiuta a non sentirmi solo in questa avventura con me stesso da una parte dall'altra a non sentirmi speciale nel mio dolore no perché perché qualcuno l'ha scritto e qualcun altro prima di lui l'avrà scritto qualcuno l'ha ragionato e qualcuno dopo di lui lo scriverà e questa cosa mi mi dà speranza ecco basta Francesco Montanari abbiamo io voglio fare il podcast nel podcast non te l'ho detto ma io voglio fare proprio un podcast separato voglio fare le ricette della cucina romana recitate da Francesco Montanari nello stesso modo non lo so quindi qui abbiamo la ricetta della carbonara io vorrei che tu me la interpretassi che poi io ci faccio questa la isolo e ci faccio un podcast tutto mio poi famo la coda vaccinare intanto iniziamo dalla ricetta partiamo col chat ricetta della ricatò no che so è spaghetti ricetta degli spaghetti alla carbonara ricitati da Francesco Montanari ma è così lunga la ricetta no vabbè ma ho fatta grossa poi la punteggiatura l'ho fatta io scusa magari no no allora vado vai vai ricetta della carbonara per preparare gli spaghetti alla carbonara cominciate mettendo sul fuoco una pentola con l'acqua salata per cuocere la pasta nel frattempo eliminate la cotenna dal guanciale e tagliatelo prima a fette e poi a striscioline spesse circa un centimetro la cotenna avanzata potrà essere riutilizzata per insaporire altre preparazioni versate i pezzetti di guanciale in una padella antiaderente e rosolate per circa dieci minuti a fiamma medio alta fate attenzione a non bruciarlo altrimenti rilascerà un aroma troppo forte nel frattempo tuffate gli spaghetti nell'acqua bollente e cuoceteli al dente intanto versate i tuorli in una ciotola aggiungete il pecorino e insaporite con il pepe nero amalgamate il tutto con una frusta a mano sino ad ottenere una crema liscia intanto il guanciale sarà giunto a cottura spegnete il fuoco e utilizzando un mestolo prelevatelo dalla padella lasciando il fondo di cottura all'interno della padella stessa trasferite il guanciale in una ciotolina e tenetelo da parte versate una mestola d'acqua della pasta in padella insieme al grasso del guanciale scolate la pasta al dente direttamente nel tegame con il fondo di cottura saltatela brevemente per insaporirla togliete dal fuoco e versate il composto di uova e pecorino nel tegame mescolate velocemente per amalgamare per renderla ben cremosa al bisogno potete aggiungere poca panna che cazzo stai a dire ho detto sicuro una legge ma che cazzo c'è scritto dopo io pensavo potete aggiungere quindi domani uscirà Francesco Montanari mette la panna nella carbonara ragazzi grazie grazie mi hai regalato un sogno guarda che sta storia delle ricette è una bomba è una bomba forse la prima idea buona che hai avuto da quando ragioniamo su questo podcast insieme è una bomba è bella facciamo un applauso a Francesco e a Danilo Danilo pure Ale grazie scusa ancora ma a proposito di cucina tu cucini cioè ti piace cucinare non uso la panna no non mi piace cucinare no oddio no no in realtà no cioè oddio non lo so è una cucino allora no allora non so rispondere perché ti spiego credo di andare su certi piatti al di là della sopravvivenza no annuisce sempre l'ombra il comitato è Darfeder come si chiama credo di andare non ha mai detto sì no no va così qual è il tuo piatto cioè la carbonara il tuo cavallo di battaglia i salti salti in bocca oh sì ma io li faccio dietetici dietetici come li faceva mia madre questo è un format di Alessandro Lorubbo dici la ricetta dei salti in bocca veloci allora prende degli straccetti se non vi piacciono non c'è problema prendete gli straccetti non la fettina di vitello gli straccetti di vitello sono molto fini è una rivisitazione salti in bocca con gli straccetti eh fidati però c'è qualche macellaio in sala per caso prendete gli straccetti ma no perché ne fai 8000 se costano di più fidati però prendi lo straccetto perché diventano un po' una sorta di sfiziosetti capito tu ne mangi 50 e non te ne accorgi però prendi lo straccetto ci metti chiaramente dentro il prosciutto ha bisogno puoi togliere il grasso però secondo me è meglio di no perché il grasso poi si scioglie sei un eretico se togli il grasso va bene e mettila lo avvolgi e metti la salvia con lo stecchino poi accendi la padella non metti l'olio mai non metti mai l'olio ma mai eh mai non lo metti mai accendi la padella no accendi il tegame metti la padella io senza copione amore metti la padella sulla fiamma mamma mia ercuoio ok no e lasci rosolare gli straccetti poi abbassi da tutte le parti poi abbassi fidati di me è una roba incredibile dammi retta io lo so che tu sei affezionato sono un po' limito sono un po' provincioloso e fidati 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 no me fido vado a qua e quindi sono gli straccetti col prosciutto no vabbè non è che è la ricetta no comunque dietetica e fidatevi quindi straccetti ci consigli gli straccetti a posto diciamo dei saltimbo vabbè ma poi se vuoi fare il saltimbo fate un po' come le pare fai la cremina fai tutto burro il burro no sono più buoni fidati sono più buoni senza perfetto non ci puoi credere ma è così no no tu ci hai invitato domani a cena ma se c'è mo' da fa' però ne puoi guarda che so buoni no se no vabbè io faccio vabbè la carbonara che posso fare che so fare per tenere la bolognese vicino te serve una bic per fa' mo domani finisco sulle ricette di Danilo su Instagram capito lo vogliamo fare lo vogliamo fare tu li fai dalla matta della pirofila dalla matta della pirofila io so io Francesco da Alessandrino metteva gli straccetti è così perché mia mamma voleva che noi mangiassimo sano credevo io invece vedi come la vita sempre per tornare non so se anche tua madre faceva la stessa cosa mia madre portava a tavola le cose e diceva ecco qua non ci ho messo niente però mamma non ci metteva veramente niente pensa che io pensa come siamo cresciuti un giorno ho avuto un confronto con mio fratello in merito a questa cosa che mamma veramente cuciva poco olio senza sale scondito anche mia mamma c'è sta roba io per quello adesso mi sfondo c'ho colesterolo a 350 per tutto quello che non ho mangiato eh lo vedi e però pensa la differenza di come uno percepisce le cose che gli accadono io dicevo vedi mamma eh ci teneva che noi bambini fossimo come dire sani no e mia fratella non ce l'ha voglia di fancazzo finita finita la questione questa la tagliamo questa la tagliamo mi raccomando questa la tagliamo io con le mamme c'ho sempre l'ansia quando ti dicono com'è perché se tu gli dici che non è buono si offendono e vabbè ma se gli dici che è buono cioè te lo rifanno te lo infilano ovunque capito quindi com'è boh tu fai rimani sul boh ma io direi di passare visto che stiamo andando verso la fine alle domande dal pubblico e quindi il momento tanto atteso vogliamo domande ragazzi abbiamo il microfono quindi le potete fare direttamente voi o le potete anche riportare a Danilo se vi sentite timidi domande non c'è più la domanda no avviene sempre questa cosa che poi non le fanno c'era una domanda però che vai l'hai letto appunti di venditori di donne il libro l'ho letto sì e che ne pensi del film visto che è il film eh ma me lo devi dire te che ne pensi del film eh vabbè questo vedi mi sembra una definizione da dizionario del cinema del cinema no no ti dico che sì è chiaro allora questa è l'eterna sì no sono d'accordo con te che è meglio il libro però penso che è difficile cioè quando uno fa quando uno legge un libro che ama molto e poi quando vede un film su larga scala rimane molto deluso non lo so se questo è il caso di questo film o se questo film non è venuto proprio bene a prescindere io questo non lo so però ti posso dire che sì è meglio il libro sì sono d'accordo c'è qualche altra domanda in sala non ti preoccupo ma sono curiosa perché dimmi tutto come mai la serie di romanzo criminale è ancora così esplosiva rispetto al film e come mai voi siete in realtà dei miti rispetto ai personaggi che noi abbiamo vissuto comunque la rifacciamo per il podcast Alessandro si sente questa domanda ma rifacciamola vai rifalla perché io tu lanci il sasso no è stato chiesto c'è scimmia in testa ma è lunga perché secondo Francesco la serie proprio riassumendo ha avuto un grandissimo successo mentre invece il film diciamo forse meno cioè è diventato meno diciamo di culto rispetto loro sono diventati anche proprio hanno proprio sono diventati dell'immagine del personaggio mentre invece per il film no cioè per assurdo nessuno quasi delle volte si ricorda i protagonisti del film ma tutti si ricordano quelli della serie è un dato di fatto ma io penso banalmente perché è un discorso di tempo in cui tu frequenti qualcosa cioè io no non ho l'attesa la prima stagione dura 12 ore il film dura un'ora e 42 minuti il libanese che ho fatto io lo vedi per 12 ore Favino muore al 40esimo minuto penso che sia quella la differenza quindi non è fatta meglio non si può dire che sia fatta meglio o peggio perché quella è una serie e quella è un film è come dire che una partita a calcio è meglio di una partita a calcetto sono due cose diverse come dire che un racconto è meglio di un romanzo sono due linguaggi diversi no? quindi però chiaro che 12 ore più la seconda altre 10 quindi 22 ore dentro casa tua quando vuoi tu con chi vuoi tu a condividere quell'esperienza lì che vuol dire 12 ore? vuol dire che 12 ore tu hai una possibilità drammaturgica cioè di scrivere tante scene che riguardano il percorso dei personaggi e quindi inevitabilmente tu se è scritta bene come romanzo criminale lo è scritta molto bene inevitabilmente tu ti affezioni di più rispetto a un film perché il film ha un altro tipo di estetica drammaturgica di linguaggio quindi è inevitabile che sia così se la serie viene scritta bene se poi la serie viene scritta male no però su larga scala diciamo a parità di qualità di scrittura la serie sarà sempre più nel cuore di un film ma noi avevamo un gruppo da scopera eh no vabbè ma pure se la guardavi da sola nel senso ma anche Gomorra rispetto al film pur essendo diversa ma io questi non li capisco però è uscito Gomorra e tu gli hai detto teni capivi di Mortace ma quindi essere il protagonista questa è una domanda seria essere il protagonista di una grandissima serie di successo può essere tra virgolette un un problema lo può essere sì per me lo è ora non più lo è stato tantissimo lo può essere ma non per il pubblico no perché il pubblico non ha potere decisionale sul mio lavoro che è comunque un lavoro di subordinazione se io faccio solo l'attore in una sovrastruttura audiovisiva perché è talmente non alla mia portata nel senso che c'è bisogno di un materiale economico umano enorme proprio di una sovrastruttura enorme il problema è quando ti etichettano gli addetti perché allora gli addetti non ti danno la chance di fare altro e non parlo solo di fare parlo proprio di fare anche i provini perché magari è talmente forte il successo di quel personaggio nell'immaginario collettivo perché loro purtroppo prima di essere addetti sono pure spettatori quindi hanno le stesse dinamiche che abbiamo noi spettatori e allora lì diventa un casino però se tu che cazzo ne so mo romanzo che viene 2.0 quello che verrà fatto no se tu produzione non lo so fai un investimento umano su quel lato artistico che ne so prendi quei 5 6 maschi e femmine che ti servono questi diventano la serie è scritta bene ci ha successo e subito dopo gli fai fare un altro progetto ok diverso e poi ne metti un altro ci ha successo tutti i traini magari certo devi rifarli bene tutti e tre chiaramente però voglio dire ognuno pensa di fare le cose e farle bene poi possono pure venire male però insomma l'intento è quello no tu ecco che hai creato tre professionisti stili conosciuti nel pubblico ma mo c'è stato il fenomeno mare fuori no cioè e non entro in merito della serie dico però quello è un fenomeno culturale ormai no mare fuori parla molto a un target umano di spettatore d'accordo quei protagonisti sono delle star adesso però pure loro sono i personaggi hai capito poi è chiaro che oggi c'è pure un mondo dei social poi mare fuori è la c'è la gomorra di un po' star sole cioè per esempio la versione di gomorra no per me per me non ho mai visto mare fuori non credo che tu sia un target di quel prodotto Danilo però intendo dire però quelli se vengono invece adesso come gli auguro veramente col cuore da fratello maggiore se vengono invece reinvestiti in altri prodotti diventano da qui a tot tempo anche in tempo breve degli attori conclamati che hanno un seguito quindi un seguito vuol dire una responsabilità dei prodotti che fanno no però se manca quello in partenza tu rimani lipanese quindi la responsabilità è anche degli addetti ai lavori che diano delle opportunità vabbè non c'è nessuna responsabilità perché non è un dovere da parte di nessuno fare fare a Francesco Montanari altri luoghi no però poi quando fai il cacciatore vinci un sacco di premi è la dimostrazione che evidentemente è bello seguire altre strade che non è detto che un personaggio diventi per forza legato al volto della persona il cacciatore è la dimostrazione il cacciatore pure lì ho fatto io quando ho i registi che si chiamano Stefano faccio sempre sette provini capito Stefano Solli mi ho fatto sette provini io Stefano Lutovico mi ho fatto sette provini lì però per esempio altra cosa cioè lì esce il cacciatore allora il cacciatore secondo me è una serie veramente bella ognuno ha i suoi gusti assolutamente il cacciatore che fa però il cacciatore va su Rai 2 badate bene allora nel mondo in continua evoluzione che viviamo noi di cui l'audiovisivo è anche alla porta l'audiovisivo si intende pure Instagram va bene cioè tutto ciò che è comunicazione mediatica questo cambia e si evolve alla stregua degli attimi d'accordo Rai 2 è diciamo considerata dalla Rai almeno all'epoca la piattaforma il canale sperimentale dei prodotti Rai cioè perché Rai 1 ha un'editoria che piaccia o meno c'ha un'editoria Rai 2 c'ha una possibilità in più cioè facciamo delle cose diverse da Rai 1 ok io non do nessun merito nessun giudizio qualitativo in merito ok editorie di produzioni va bene detto questo però Rai 2 non ha il pubblico che può vedere il cacciatore perché il cacciatore ambisce a un pubblico che guarda Romanzo Criminale su larga scala il pubblico che guarda Romanzo Criminale non guarda Rai 2 mi sto spiegando? quindi il cacciatore se fosse andata su Netflix mo dico una cazzata mi sono sono abbastanza convinto di poter dire che avrebbe avuto un altro successo in Italia però è andata su Rai 2 su Amazon è andata molto bene all'estero perché quando è uscita Amazon Italia ancora non se lo vedeva nessuno ok ora addirittura il cacciatore io vinco la Palma d'Oro a Cannes come prima edizione del Festival di Cannes delle serie quindi pensate quanto cioè addirittura un Festival di Cannes che sarebbero diciamo gli Oscar europei il Festival di Cannes ok è il festival più antico e più importante d'Europa va bene addirittura loro dicono cazzo pensa quanto è diventata importante la serialità dobbiamo fare un festival che abbia la stessa dignità e autorevolezza del cinema ora che succede però è chiaro che il Festival del Cinema sta credo a 75 più o meno 76 edizioni quindi c'è uno storico dove tra l'altro a Cannes c'è passato chiunque abbia mai fatto cinema a livelli incredibili da Marlon Brando a Lorenz Olivier a Mary de Moreau a Mastro Ianni vari volonté ok per più citare anche italiani va bene cioè parliamo di una roba costruita Ianni che ormai non è più in Italia ahimè quindi è chiaro che tu stai la prima edizione non hai quell'attenzione però tu Italia devi sostenere quell'attenzione devi costruirla quella roba primo perché hai fatto un prodotto Rai che vuoi o non vuoi è la rete italiana statale secondo perché poi uno ha pure vinto e non ha vinto una serie prodotta da Sky o da Netflix che paradossalmente era più papabile che concorresse ha vinto la serie Rai io vi giuro che quando ho vinto il premio sono uscito c'erano tutte le testate del mondo non c'era una testata italiana non ce n'era una cioè io credo che mi abbia fatto le domande una del New York Times che stava là non so manco che cazzo gli ho risposto francamente e non c'era manco ma non dico TG1 Tele Lazio c'è stava c'era niente tant'è che quella cosa è passata completamente in sordina se l'ha inculata nessuno ma non so è quello che dici il primo anno va bene chiaramente io rosico perché mo ve lo dico tanto qua siamo in seduta praticamente cioè tanto ho detto tante volte io rosico perché quelle sono opportunità importanti di carriera e se l'opportunità non viene minimamente considerata tu per carità fai così un'altra volta ricominci da capo e vabbè e ricominciamo da capo però non è detto che mi possa riaccadere un'altra volta nella vita no ma perché perché l'opportunità importante fa in modo che tu possa avere altre opportunità di quel calibro ma avere opportunità di quel calibro vuol dire avere possibilità di creare cose che possono dal mio punto di vista modesto e umile parlare allo spettatore mi sto spiegando ok ma pure oggi che sono passati otto anni e credo che questa sia stata l'ottava edizione del festival di Cannes voi manco sapete che esiste Cannesery e questo è un problema dell'Italia quando in tutto il mondo si sa cioè ragazzi io dopo il premio stavo con il nero che ha fatto Green Book non mi ricordo come si chiama attore strepitoso in Sia Bicomort Jared Ledo c'era come si chiama che io mi sbaglio sempre con Gabriel Garcia Marquez che è quello lo scrittore l'attore che ha fatto i diari di motocicletta come si chiama vabbè attore spagnolo famosissimo stavo con l'attore che ha fatto Dexter e tutti mi dicevano congratulation io stavo lì ma come sei tu ma veramente oddio non ci credo oddio ok nessuno stava lì cioè questa cosa non l'ha vista nessuno questo che ci fa capire c'è qualcuno che fa le notti in bianco per guardare gli Oscar il 99% degli italiani in San Manco che so i David e i Donatello ora io mi domando ma noi veramente ci lamentiamo che la gente va in sala ma certo che non ci va non c'è un sistema non c'è un sistema non si creano miti non si creano i vari step di tre metri sopra il cielo poi ironizzando non si creano le mitologie le drammaturgie intorno al cinema la magia del cinema non esiste in Italia esiste la magia di riflesso dell'estero non esiste dici la potremmo vince la guerra ma guarda secondo me sì perché oggi invece c'è un momento di evoluzione fondamentale ci sono tantissime realtà più o meno giovani ahimè più giovani di me perché hanno 25 anni però che si danno da fare cioè c'è un altro modo chi se ne frega nel senso non è che questo vada bene non è che io faccio un discorso di frustrazione cioè sì però la frustrazione l'ho veicolata ormai in una costruzione quotidiana l'hai canalizzata in qualcosa di positivo beh sì perché se no che fai cioè a un certo punto cambi mestiere o o ti butti dalla finestra però c'è sempre chi sta peggio ma lui sta tanto bene Danilo comunque già avevo difficoltà a diventare attore adesso dopo cambio ma che c'entra c'è e sto zitto quando Elio Germano ha vinto la palma d'oro a Cannes ex equo con Bardem ve lo ricordate? sì lui vinse la palma d'oro a Cannes avete presente? eh beh Elio Germano magari no che cazzo Javier Bardem avete presente? certo ecco e qui non ho sentito sì però vabbè un anno Elio vinse la palma d'oro a Cannes ex equo con Bardem Bardem è uno degli attori spagnoli più quotati al mondo Bardem lavora a Hollywood e premio Oscar ha fatto un sacco di film non è un paese per vecchi sì lì ha vinto ha vinto pure l'altro due Oscar ha vinto per quello e per quello prima che l'ha reso famoso non mi ricordo come si chiama spagnolo tra l'altro vabbè attore gigante ok allora voi mi dovete dire ma come è possibile che non c'è stato un produttore che abbia detto ma perché non facciamo una coproduzione Italia-Spagna e mettiamo Elio che abbia Bardem perché no così tu crei un sistema perché Bardem o Cassel come vi pare a voi questi divi se tu ci metti Favino vicino a Cassel e lo metti in un film dove Favino non fa l'autista con tutto rispetto dei Tom Hanks e sta zitto e quindi può fare la comparsa lì ma Favino è un cazzo d'attore se tu ci metti Favino vicino a Cassel e fai un coprotagonista Favino diventa Cassel e se Favino diventa Cassel tutto il cinema italiano cresce me sto a spiegare e magari poi la gente al cinema ce va e non è che tu devi spendere più soldi non è vero non è vero costa uguale non è che non è che dici eh ho capito Francesco ma tu vuoi fare il Signore Canelli costa 300 no io non voglio fare il Signore Canelli sì magari ma non è questo il caso cioè è uguale è questo che io non io ti giuro io questa cosa non la capisco comunque io faccio pure Gollum se vuoi se mi fai fare se ti chiamano a farti allora io direi prima di fare l'ultimissima domanda a Francesco con cui ci salutiamo proprio la concludiamo con le tue parole io voglio ringraziare tutti voi che siete venuti qua stasera perché siete stati un pubblico bellissimo forse il migliore di sempre non come Danilo che dice a tutti che è il suo attore preferito veramente uno dei pubblici più partecipativi tutti cantanti gli dico tu sei il mio attore preferito c'ho quella come battuta voglio ringraziare Lian Club che ci ospita voglio ringraziare Danilo Da Fiumicino che lo tratto male ma in realtà è fondamentale e Francesco Montanari che è stato iper disponibile è una persona che ci ha portato tanti contenuti facciamo un applauso a Francesco voglio ringraziare i tecnici Giuliano al mixer Matteo Pieravanti che si è occupato delle basi che sentite in sottofondo e delle registrazioni e se volete ci vediamo il 3 maggio con Stefano Fresi e anche con lui parleremo di tantissime cose di cinema di tv di musica e chi più ne ha più ne metta e ti voglio chiedere una cosa ci possiamo salutare così ce l'hai un pensiero felice? cioè qual è il tuo pensiero felice? Decore è questo è stare bene io per esempio quando cerco di addormentarmi la sera per stare rilassato cerco di pensare a qualcosa che mi fa stare bene tu ce l'hai una cosa anche senza che ce la dici nello specifico perché magari è intima tua ce l'hai un tuo pensiero felice non so se vi ricordate in Huck capitano un cino i pensieri felici servivano per staccarsi da terra e per volare era il modo per staccarsi dalla realtà qual è il pensiero felice di Francesco? il pensiero felice ma Alessandro è così fa tutte domande facili il pensiero felice è la costruzione la costruzione cioè intendo il pensiero felice è scegliere per me è aver capito che scegliere può darmi la felicità e essere fedeli alla scelta